ciao amici e bentornati sul canale come vedete dalla mia scrivania oggi sarà una recensione a tema cooktech un brand con cui collaboro già dall'anno scorso e nel video di oggi andremo a testare a recensire l'ultima power bank lanciata da questo brand la nuovissima e innovativa cooktech 15 power bank ultra è un dispositivo veramente rivoluzionario più compatto del modello precedente con una base di ricarica di 20.000 mAh rispetto ai 25.000 per ora del modello dell'anno scorso questo modello tra l'altro l'ho usato anche all'aifa a bellissima fiera che ci tornerò anche quest'anno e mi è stato veramente utile perché mi ero dimenticato il convertitore delle prese tedesche dato che l'aifa è a berlino ho utilizzato questo power bank per ricaricare tutte le mie telecamere e ne sono rimasto così soddisfatto che è diventato il mio power bank personale per cui ho appena avuto l'occasione di testare anche la nuova power bank non me la sono fatta scappare e in questo video la andremo a approfondire sia per quanto riguarda la dotazione base ma anche facendo un po di test e timelapse e oltre questo power bank in questo video andremo ad analizzare questi due fantastici caricabatterie anche questi sono appena lanciati uno un po più massiccio da 100 watt e l'altro da 65 watt e ora prima di partire con la sigla vi ricordo che se alla fine del video sarete interessati a questi device vi ho lasciato il link diretto per poterli acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video iniziamo con l'unboxing partendo dalla nostra cook tech 15 power bank ultra all'interno della confezione troverete anche questa bellissima custodia protettiva in questo morbidoso tessuto grigio scuro con anche i laccetti per richiuderla e sempre all'interno della confezione troverete anche questo utilissimo cavo di ricarica doppio tipo c per quanto riguarda gli alimentatori abbiamo qui quello più potente il cook tech gun charger da 100 watt e la sorlina minore da 65 watt il box del caricatore gun da 100 watt è ovviamente molto più grande perché sia per le dimensioni dell'alimentatore ma anche perché all'interno è compreso il cavo di alimentazione doppio tipo c che non è presente invece nella versione da 65 watt partiamo con l'analisi della power bank vi dico subito che il materiale mi sembra veramente di ottima fattura e anche le dimensioni sono veramente compatte si riesce a tenere tranquillamente con una mano per quanto mi riguarda la scelta della capacità di ricarica di 20.000 mAh per me ci sta perché riesce appunto a mantenere delle dimensioni ridotte ridotto infatti anche il peso che è di soli 590 grammi comoda da portarsela con sé se in tasca in borsetta e avendo il bolino certificato airline safe la potrete tranquillamente portare anche nei viaggi in aereo un bel vantaggio per chi come me viaggia spesso per lavoro e la cosa bella che questo power bank è dotato di display da 1,3 pollici per cui abbastanza grande su cui potete leggere sia la percentuale di batteria rimanente e tutti i dati di input e output a tre slot di ricarica un usb di tipo a e due usb di tipo c i due slot di tipo c possono essere utilizzati sia per ricaricare ma anche per ricaricare la stessa power bank perché funzionano sia in entrata che in uscita invece lo slot usb di tipo a serve solo a ricaricare la porta usb di tipo a ha una potenza di ricarica di 18 watt per quanto riguarda invece la potenza output delle due porte di tipo c la c1 ha una potenza di ben 140 watt compatibile con tutti i dispositivi che hanno una super ricarica rapida e invece la c2 ha una potenza di 90 watt dotato di protocollo pd 3.1 ed ha la compatibilità universale con praticamente tutti i dispositivi dotati di tipo c android iphone macwood e qualsiasi altro dispositivo che si ricarica con la porta di tipo c dato della tecnologia pass through che dopo andremo a testare ossia mentre ricarica altri dispositivi lui stesso si può ricaricare in contemporanea infatti come vedete dallo schermo in arancione abbiamo un totale input di 43 watt sta ricevendo infatti energia da questo alimentatore in uscita ossia all'output abbiamo 27 watt che sta utilizzando per caricare sia il cellulare che il tablet tecnologia veramente utile se per caso utilizzate portatili compatibili con la ricarica tramite usb tipo c potrete usare questo power bank come batteria ausiliaria oppure come ups utile ad esempio se utilizzate dei mini computer dispositivo che utilizzo spesso quando sono in trasferta per editare collegando il power bank all'alimentatore potrete rimuove la classica alimentazione del mini computer per caricarlo direttamente dalla power bank andiamo a provarlo subito stacco l'alimentazione come vedete se provo anche accenderlo non si accende vado a collegare il cavo tipo c visto che questo computer è compatibile e guardate cosa succede avete visto il computer si è acceso per cui alimentando il mini computer con una power bank avrete una sorta di ups e se vi dovesse saltare la corrente non rischierete di perdere tutti i dati cosa che normalmente accadrebbe dato che i mini pc non sono dotati di batteria e concludo questa breve analisi tecnica fornendovi gli ultimi due dati il primo che la sua potenza di output massima è di 210 watt e l'altra caratteristica degna di importanza è che questa power bank riesce anche a ricaricare in modalità lenta ad esempio ci sono dei dispositivi che mettendoli sotto stress con la ricarica ultra rapida possono avere dei danni o causare deterioramenti alle batterie con questo power bank non avrete questo problema perché andando a impostare tramite il display schiacciando il tastino potrete attivare la ricarica lenta e per quanto riguarda le caratteristiche di questi due alimentatori vi informo che entrambi hanno la ricarica rapida pd che li rende compatibile con la ricarica di quasi la totalità di tutti i dispositivi per quanto riguarda gli slot entrambi gli alimentatori sono dotati di tre slot due di tipo c e uno usb di tipo a quello più grosso con una potenza di ricarica di 100 watt e di 65 watt per quello più piccolino e grazie al sistema gun prevengono il surriscaldamento durante la ricarica per cui sono veramente testati certificati e garantiti al 100 per cento direttamente dal brand cooktech e dopo questa breve analisi tecnica iniziamo subito coi test di ricarica andiamo a testare la ricarica con modalità beast mode adesso il power bank è al 0 per cento in totale come dicevo durante l'introduzione ha una capienza di 20.000 mAh sono curioso se manterrà le aspettative ossia con una ricarica in modalità beast in soli 45 minuti ho già preparato l'orologio per il timelapse questa è la telecamera andiamo a inserire i due super carica batterie della cooktech 1 e 2 e ora che abbiamo collegato tutto partiamo con il test si è già attivata la modalità beast mode e guardate i watt come stanno crescendo e può raggiungere un massimo di potenza di 165 watt ricaricandolo completamente in soli 40 minuti ed eccolo qua power bank ricaricato al 100 per cento in soli 40 minuti veramente approvata la modalità beast mode e soprattutto approvati anche i due caricabatterie e tra l'altro vi dico anche che al tatto non hanno riscaldato minimamente per cui anche per quanto riguarda la sicurezza non posso fare altro che consigliarveli e ora che abbiamo ricaricato la power bank facciamo un secondo timelapse andando a ricaricare questi due rugged phone entrambi hanno batterie da 10.000 mAh e in contemporanea mentre ci sarà ricarica tramite la power bank ricaricheremo questo super tablet che ha una batteria di ben 20.000 mAh e questo lo andremo a ricaricare col nostro super trasformatore per cui ci saranno tre super ricariche che verranno registrate dal nostro insta360 per fare anche in questo caso un bellissimo timelapse partiamo con il primo guardate come sta salendo la lancetta adesso procediamo anche col secondo ha già iniziato anche in questo caso a caricarsi e qua potete vedere tutte le informazioni per quanto riguarda la ricarica e nonostante la doppia ricarica la temperatura anche al tatto è rimasta veramente sotto controllo meno di 40 gradi e le protezioni di sicurezza della cooktech sono veramente all'avanguardia e avrete il massimo della sicurezza anche se le utilizzerete in ambienti con temperature estreme e anche la ricarica di questo super tablet rugged è ultimata e come vedete ha una batteria di ben 20.000 e 80 mAh la ricaricata tutta d'un fiato e andando anche a sentire il trasformatore con la mano vi posso confermare che ha scaldato veramente pochissimo per cui se non ci sono stati problemi di temperatura a ricaricare un tablet da 20.000 mAh sicuramente non avrete nessun problema su qualsiasi tipologia di device spero che questa recensione vi sia stata utile e soprattutto se siete interessati a questo cooktech 15 powerbank ultra e agli alimentatori vi ho lasciato i link diretti per poterli acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video come prezzo di vendita all'incirca verrà venduta sui 90 euro ma è facile che ci saranno delle offerte o anche dei codici coupon sconto per pagarlo anche meno magari già a partire dalle prossime offerte prime day che ci saranno su amazon nel mese di luglio per quanto riguarda invece i caricatori quello piccolino da 65 watt viene venduto a 29 e 99 invece quello più massiccio da 100 watt a 49 e 99 anche in questi casi ci saranno sicuramente delle offerte e ovviamente appena partiranno anche queste ve le lascerò direttamente sia nel primo commento che nella descrizione di questo video da lucatac e dall'arsenale della cooktech direi che è tutto vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao